Allora siamo arrivati nel Tempio di Bello, qui è proprio, insomma per il momento siamo ancora in mezzo ai Beduini, quasi. Qui cosa vendono di bello? A fare per grattarsi? Ah, guarda, hai visto quello là che ha la gabbia piena di uccelli? Unora è n veux, rispetto a noi, che ho bisogno di togliere, rispetto a noi, a fare per grattarsi che fa. grazie a tutti 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 grazie a tutti